Ragazzi sto facendo questo video velocemente perché ho fatto tre video su questa carriera allenatore però tutti quanti erano più di 15 minuti poi un altro l'avevo fatto di 10 minuti però poi non me l'ha salvato non so perché poi ho fatto un altro di mezz'oretta quindi non me l'ha registrato, questo video dura poco questa qui è la squadra zapata Eliciz Gomez di Aaron Biglia a Buonaventura sono i due acquisti insieme a Crescito poi Toloi, Caldara, Tebuera e Gollini e queste qui sono i sostituti, queste qui sono le riserve ho fatto due partite, guardate qui ve le faccio vedere, c'è il Torino contro la Spala contro la Spala abbiamo pareggiato e con il Torino abbiamo fatto 2-0 con un gol pazzesco di, due gol pazzeschi di, come si chiama, Zapata andiamo a vedere il giro di UEFA Champions League allora, Dinamo Zagabra, speriamo, Shakhtar Donetsk e Manchester City difficile ma possiamo passare vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto lasciate un commento e mi piace e bella ciao 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 ciao